Tentano di portare via la postamat dall'ufficio postale del quartiere Sant'Elia, ma arrivano i poliziotti e il colpo fallisce. È accaduto a brinditi intorno alle 3 quando i gnoti, proprio muniti di una fiamma ossidrica, hanno provato ad asportare la postamat. Ma è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitate le pattuglie delle volanti. Alla vista degli agenti, i malviventi hanno abbandonato tutto e sono fuggiti a bordo di una BMW, facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per identificare i malviventi. Gli inquirenti non escludono che possa esserci un collegamento con quanto accaduto domenica scorsa alla Banca Puglia, in piazza Cairoli, dove i gnoti hanno provato a penetrare all'interno dell'istituto bancario attraverso un buco realizzato in un garage attiguo. Anche in quel caso il colpo è fallito. Sincerato la banca Puglia Satp stanie, in quel caso il colpo è fondamentale. Anche in quel caso il colpo è riuscito all'interno dell'istituto degli uomini, KũS pat howpetta, un colpo è alto editty, in quel caso ilynen attraverso un piacadice ก Żel%. Grazie.